Andrea Cortinovi, Fulgor Seriate, tra i primi dei bergamaschi piazzati, raccontaci un po' com'è andata questa gara. La gara è stata abbastanza dura, a parte alcuni tratti in cui andavamo abbastanza pianino. Comunque ci sono stati dei tentativi durante il corso della gara, però nessuno è andato in porto e poi il resto si è deciso qua sull'ultimo trappo. Io sono arrivato nei dieci di sicuro, però adesso devo aspettare la classifica, che lo dica. Ci attendiamo quindi la classifica e poi domenica prossima un altro appuntamento importante, tu l'anno scorso sei riuscito a vincere il provinciale e un pensierino ce lo farai ancora anche quest'anno. Speriamo di inizialo ancora, con il messo tutti.